Ore 3 della notte, tra il 25 e il 26 dicembre del 1996, zona imprecisata del Mediterraneo, a fondo a un battello di migranti clandestini mentre cercano di sbarcare sulle coste siciliane, li chiamano i fantasmi di Portopalo, lo chiamano il naufragio fantasma, i pescatori di Portopalo hanno paura, si tratta di una delle più grandi tragedie navali del Mediterraneo, con le loro reti iniziano a tirare su dei fantasmi, la notizia si confonde, li ributtano in mare, si diluisce, restituendogli i clandestini agli abissi. Parigi.